A Chieti la maggioranza si è ricompattata approvando ieri in Consiglio il bilancio preventivo 2023-2025. In caso contrario si rischiava lo scioglimento del Consiglio. Nell'incontro di questa mattina il sindaco Diego Ferrara ha rivendicato la bontà di quanto è stato fatto. Questo bilancio previsionale, tra l'altro approvato già dalla Sise l'anno scorso, e avendo avuto il beneplacito del Ministero dell'Interno mi fa non comprendere sinceramente il voto contrario di alcuni consiglieri della minoranza che dovrebbero, secondo me per onestà intellettuale, spiegare ai cittadini il loro voto contrario. Sono sicuro che questa spiegazione non verrà perché purtroppo molti di loro sono accecati da un furore nei confronti dell'amministrazione Ferrara. Il sindaco inoltre su un presunto rimpasto di giunta ha dichiarato. Adesso abbiamo un anno e mezzo. Ci dobbiamo concentrare, giunta e consiglieri, su due, tre, quattro punti al massimo importanti che vogliamo concretizzare. E quindi con ogni probabilità, anzi con certezza, io devo riunire un tavolo politico e dire a tutti i rappresentanti di questi gruppi politici la classica domanda. Che vuoi fare da grande? A margine della conferenza abbiamo poi sentito il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo sulla questione della città della giudiziaria, che il Comune ha già deciso di farla rimanere in centro a ridosso dell'attuale Tribunale, al contrario di quanto avrebbe stabilito il Governo per una delocalizzazione. Come andrà a finire? Io penso che si riuscirà. Abbiamo mandato lettere di richiesta di incontri perché vogliamo spiegare qual è la nostra idea e chiedere poi a chi ha gli strumenti per valutare, in questo caso il demanio, di valutare questo progetto e poi eventualmente fare un ragionamento. Ma il nostro progetto, l'abbiamo già visto, funziona, è in centro, ha tutte le possibilità di rimanerci come già fatto in altre realtà, ad esempio Lecce, ma tante realtà hanno portato avanti questo progetto.